Il Vescovo della Via Dioce, che sono delle dioce di acqua e terra, quindi ci sono delle radici abbastanza forti dopo queste vite ecclesiali, ma poi anche per l'amicizia che ho sempre avuto, questa è la vostra congregazione, da Roma, i vostri amici di Roma sono qua anche a Roma, ci siamo incontrati tanti anni e abbiamo collaborato attraverso la vostra presenza, delle parrocchie e delle comunità. Bene, allora iniziamo la Messa con il rinnovato spirito di riconoscenza, riconoscenza al Signore, per essere qui insieme, per fare memoria e accogliere il messaggio, il carisma, il programma di vita e di santità che è stato giustamente richiamato, per voi laici in particolare, ma anche per tutti noi sacerdoti, anche per il Vescovo, che ho appunto il punto del riferimento, anche il Vescovo, anche il Vescovo. Chiediamo perdono dei nostri peccati per renderci teni di accogliere il dono del Signore. Chiediamo perdono dei nostri peccati per renderci teni di accogliere il dono del Signore. Chiediamo perdono dei nostri peccati per renderci teni di accogliere il dono del Signore. Chiediamo perdono dei nostri peccati per renderci teni di accogliere il dono del Signore. Dio ne potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conducca alla vita eterna.